eccoci qua bello a tutti ragazzi benvenuti sono my team ma benvenuti sono my team ma la vecchiaia e la anormalità siamo ad oggi per la prima volta almeno sul mio canale a turmoil anche se turmoil è comunque un gioco conosciutissimo perché l'hanno giocato già in tanti e devo ringraziare approfitto per ringraziare il team di sviluppo gamius in particolare Pym che mi ha concesso la chiave del gioco gratuita molto molto sentimenti quindi thank you Pym sono veramente contento di questo gioco sono veramente contento di questo gioco e anche il fatto che questa è la mia prima chiave free to play concessa da uno sviluppatore quindi ringraziamo la gamius cari ragazzi e quindi questo è il mio primo primo gameplay su terrible poi vedremo se è vero che piace magari andiamo anche a prenderci lì che è molto molto carino l'ho già ad occhiata anche quello è fatto molto molto caruccio quindi magari vediamo un po allora intanto iniziamo facciamo una nuova campagna e qui la cosa bellissima di questo gioco è questo solamente questo vale tutto il gioco però andiamo anche a giocare noi prendo io prendo sempre il gioco a Joshua ma siamo qui a prima o la vecchia e la blank no chiamo la vecchia e la vecchia ben fatto adesso dice ben fatto adesso dice almeno lavoro vieni al municipio a conoscere i tuoi avversari ma chi se ne prega allora e questa è in costruzione mappa del mondo perché adesso non abbiamo tante cosette a caso e a caso vado qua vicino al fiume salve gente pare l'avvocato sembra interessante ma in realtà abbastanza noioso e non ce la faccio più mi ha preso la smania del petrolio è l'unica cura 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 che trovarlo ma che cazzo ti è come buccia amica è stato scritto ho fatto il pastore abbastanza lungo per spero che le nocce nella platteria sono fredde e desolate spero che fare i soldi colpitori sia facile per trovare qualcuno da incappertare perché sono sempre solo e non riesco mai a trovare una donna nemmeno sottoterra ho letto di cnaste non me la passa male con gli immobili ma è giunto il momento di avere una nuova attività vado sottoterra mego jones non mi piace cazzeggiare mettiamoci al lavoro buongiorno buongiorno ho navigato per il mondo per anni come capitale di nave e non so neanche nuotare bravo questo è l'altro se fai compagnia a quella che va sottoterra non ti preoccupare non voglio neanche pensare di affogare a meno che non si tratta di affogare nei soldi vabbè sempre muori però io sono lì sempre brutta morte allora io voglio andare qua posso? no a gratis questa è la banca d'angiana per inaugurare la mia banca nuova di zecca ho aperto una zecca ho aperto un conto per ciascuno di voi potete venire a trovarmi per il prospetto o finanziario la vostra ultima impresa no secca succhia soldi no grazie allora questa è facile dovrebbe facile facile c'è poco qua però dovrebbe chiudersi ad aprile credo quindi dobbiamo muoverci di brutto mettiamo cavallucci mettiamo l'admantis mettiamo se vi muovete però ci state tre quarti d'ora magari per aprile spurghiamo però questo potrebbe essere anche un gioco del pozzo nero gioco del pozzo nero abilità nel spurgare i pozzi di letame potrebbe essere un gioco interessante perché è due perché sono veramente guarda ma sempre un pelino un pelino prima oh ma in frame è possibile raccontarlo da un cipere vai a un euro un dollar e trenti poi vendete anche l'anima se l'avete i cavalli trasportatori perché il tempo è breve bisogna sporgare tutto qua vai 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 90 90 di qua narghiamo i tubi non possiamo addomanti due accoppiatevi e figliate così non li devo pagare va bene qua eh non posso pagliere le azioni vediamo così che brutto però che non lo posso fare però pesto eccolo ho seccato che 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 fortuna minchia quant'è grosso questo non ce la faremo mai ma voglio le cavalli qua che faccio finire perché siccome a me non mi freddi mi freddi eccolo l'ultimo mese già merda merda vai vai non ho niente non ho niente non mi puoi fermare adesso muovetevi nonno ma guarda la roba c'è pieno maledetti l'andata rimessa guarda la roba che spreco fai i soldi dove li fai i soldi qui ho già fuito il mese muoviti almeno duemila sono entrato ho pagato duemila a fame a meno di avere duemila su su svolta 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 riempi 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 svolta svolta riempi 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 1.300 dai Chu 23 marzo quindi non era un mese di aprile compreso 1 e 11 1 corri 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 no vabbè non era un grandissimo robo però c'era una roba interessante ho detto roba 2000 ho ripreso i soldi che ho speso paro paro profitti la vecchia ne sa quindi come buca mi chiamo fred metal sta cercando un sistema per rendere più efficienti le operazioni di perforzioni passerà la mia fabbrica per potenziare le tue attrezzature io se non quanto senso non ho capito lo sentimento portate con il sindaco che sembra me tu sei proprio alcune delle mie innovazioni le porterò del mio lavoratorio di prossima apertura perché se non è aperto non riesce a fare ma questa è la banca detto anche il viscido ha stabilito i remi 46 bello questo 46 mi posso posizionare qui beccia vai beccia anche quando non è normale ora si mutano fuori no vai abbiamo 17 mila monete contro se joshua 16 mera desi 8 mera riccardo 17 dove l'ha preso questi soldi allora cosa facciamo basta niente non possiamo fare niente questa è la banca ecco eccolo qua 7500 larghezza dei low tube e no ci serve le dimensioni 2 gamificazione 12 mila prendiamo larghezza tubo va che almeno riusciamo a combinar qualcosa di più 2 mila monete per entrare dentro la mappa ma no scusate facendo un errore di quelli madornali sono lenti in stile addomantis 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 perché sono due dai uno più uno uno di più uno di là non fare perché era abituato a fare le dinamazioni allora quanti o altro guarda sempre un pelino prima si ferma non è normale sta cosa qua ma sempre anche prima sono quasi anormali in me più che in questo gioco mi conosco allora ne faccio un altro gioco più tranquillo si fa giro spettinato guarda da un pelino prima guarda un pelino prima ma perché non me lo fai in un colpo solo c'è il gioco più tranquillo e rilassante del mondo mi crea nervosissimo non è possibile no uno oh non l'avevo visto correte 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 allarghiamo tutti subito così almeno cavalli si danno anche a fare guarda tanto questi sono mediamente grossi anche un altro eh non c'ho paura io lo posso pick up così ti darebbe fastidio perché un'altra non ce la metto naturalmente cavalletti per il momento gliela fanno anche se diciamo così appena grossetta ciao oh 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 si amai non mi fate pocare molte già al secondo terreno per favore eh oh questa l'ha presa sono fermato un secondo prima ah dai tutto questo l'ho quasi finita forse dipende quanto è grosso cavalli cavalli quanti devo mettere aspettate a vendere 20 milioni davvero un po incasinato a sua partita perché non ho gli strumenti adatti che fa una cosa fatta bene ho capito un dramma così però no un dramma perché questi non li posso aumentare devi riempurre in 3 secondi 10 centesimi capirai rado trovi qualcosa aprile quando sarà maggio forse l'ultimo mese io qui come va un pelino su anche 80 avendo perché se non ce la facciamo rado non trovo altro dai muoviti però non ci sta tre ore per andare 80 susi non è inutile aprile maggio sarà maggio l'ultimo mese non mi ricordo se cosa vuoi non aspettiamo volte perché se no poi rimane tutto lì un altro ce n'è sempre qui rado mi trovi qualcosa per favore un altro 9 in alto 90 90 o un dollaro va bene di qua sta salendo un attimo che lì la sta sta salendo a bomba questo è molto più lento un affinito anche di qua qualcuno anche di qua però mai bene tutto 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 suota 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 prendi 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 questo che stanno andando di fuori l'altro sta rimanendo a 94 che potrebbe essere buono su questo scende sta scendendo anche questo domanti sono in due no quell'altro è sparito sono rimasto è rimasto solo però non trovo niente già qui non c'è niente ragazzi è impossibile molto probabilmente non lo trovo perché non va in profondità lui vabbè a me basta che svuotano tutto assolutamente se ce la fanno maggio ok maggio nell'ultimo mese però stiamo vendendo benino vai butta butta e si sta scendendo un po' di autogestione per favore non mi fate prendere molte inutili questa è la grossetta questa è grossetta però poi si è fermata ultimo mese giugno vendi 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 56 si è umai vendi 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 5 e 42 però 48 52 città carico in niente sono in solo due fabbrica se ne aveva messe quattro mi saltava al cervello se vai di la vabbè conta praticamente niente perché vendere a meno 13.000 e c'era bella grossa questa non era finita altrettutto questa era veramente grossa vabbè comunque è andato a pensare sicuramente meglio degli altri va bene ragazzi io direi di concludere qui a me questo gioco piace veramente tanto perché l'ho già d'occhiato mi piaceva non ho mai avuto l'occasione di comprarlo e fortunatamente grazie ancora la games che mi ha regalato la chiave nella possibilità di giocarci e niente io se volete ve lo riporto perché comunque tanto ci gioco non so se farò sicuramente magari non farò una serie completa perché è già un gioco che comunque l'avete visto e stravisto però a mi piace mi piace dovrebbe rilassarmi dovrebbe ma quella è colpa mia e niente ragazzi io comunque vi invito a scrivervi su twitch sul canale twitch perché ogni giornale se c'è la live e sono iscritti su twitch altrimenti anche su youtube perché su youtube sono altri 280 quasi 300 gameplay da vedere e poi comunque posso lavorare di twitch su youtube magari non siete iscritti su twitch non vi piace il twitch ci avrete avanti anche su youtube io quindi vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima trasfusione di petrolio